amici non di pes fan club italia mannaggia la morte di chiede strana mort allora sono stato un bel po assente per delle ragioni un po più serie più importanti allora ragazzi siamo giunti alla quinta di fila nuovamente ne ho persa una su dieci o su otto non mi ricordo nuovamente con un iscritto che mi ha fatto i complimenti ha vinto al cento ventesimo mortacci sua per una bella partita allora ragazzi prima di iniziare oltre salutare i soliti colleghi amici demis luca angelo marco di seguire i canali di chris martin di mannaggia le mortacci mia che non me ricordo di giovanni di giovanni detto blog blog borne 92 italia ripeto di chris martin di fabio che si chiama plago rob 91 italia saluto tommy 80 max gona saluto tutti remo spergolano tutti 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 tranne chi che mi sponso può cazzo detto chiaro e tondo ve lo dico allora oltre ripeto a fare la quinta vi volevo dire e ribadire una cosa per l'ennesima volta forse a qualcuno ne chiare il regolamento di pesca anche l'ebitaglia ok io sono il primo a dire essendo insieme ad angelo bove il più storico admin del gruppo quello che ha stressati i a molti quello che ha iniziato a portare i video per far vedere quanto fa schifo conami non pensi allora se prendi per il culo me prendi per il culo dei miei amici o prendi per il culo degli iscritti io non conto più anzi non faccio più partire cantano fino a tre per me se già fuori non me ne fotte un cazzo siete libri di commentare di scrivere di dialogare ma l'immortacci sua che stanno un altro ragazzo grazie a tutti scusatemi per questa inconvenienza ma le murtacci di ogni voto che devo registrare poft vabbè detto questo ripeto stavo dicendo che va bene che sono il primo e siamo il primo a dire forse l'unico gruppo in italia che vi lasciamo liberi fate ciò che volete però se poi mi devi prendere più il culo devi prendere venire a prendere più il culo in casa mia no che sia chiaro no me ne fotte un cazzo ma spera ma spera ma qui ciò che avete capito oltre alle offese e tutto ragazzi io vado con questa squadra mi sono portato qualche lettera B da Kimmich ad Alaba a Neuer a Coman e alcune leggendine più i tre giocatori risalto ovviamente non devono giocare loro così così vabbè poi la sistemiamo dai come a mente coppa challenge online ragazzi questa settimana solo girati tre agenti i tre giri gratis non ho beccato un cazzo non ci ho dato manco un euro se volete poi andiamo a vedere lo store che non ho sciopato un cazzo non so però neanche lunedì fotte sega del Monaco ed è Marsiglia quindi la challenge la faremo fino a domani poi a donedì sì la farò per vincere non so che premio daranno e poi adios si ritorna nelle classificate normali quindi adios più GP adios i punti di esperienza che danno mettendo i tre giocatori il risalto minimo che peschi perché ragazzi che cazzo me ne faccio beh questa è la quinta proviamo a concentrarci proviamo a non gastimare ripeto ultimamente sto avendo un po di problemi non sto andando neanche lavorare per sto assistendo mia moglie che vabbè gli hanno quasi scippato la borsa quindi si è fratturato un ginocchio il di bastardo figlio di puttana è stato arrestato meno male lasciamo perdere da che c'ho a chiave in anza la mano e vuole a strapien ci sta solo facendo dannare la vita adesso spese e altro vabbè la divertiamoci vi ho spiegato un po la mia assenza anche nei video minchia per trovare un avversario mortacci sua o è che non gioca nessuno oggi madonna me praticamente io non porto video da ragazzi siamo quasi oltre il 230 iscritti minchia l'ultimo video tre giorni fa che cazzo ha portato forse mercoledì vabbè come o lunedì non mi ricordo 1700 visualizzazioni quasi boh e non arriviamo a mille ma come cazzo è su fatto boh boh minchia poi dice che dura assai un video ma ragà boh non lo so che dire ah premetto no premetto che sto a dire premessa faccio i miei auguri all'amico amico più che amico un figlio demis detto il non il virologo il diarellologo ma sembra diarrea che è arrivata a merito campione o 3000 ha fatto quasi mille vittorie di fine in live poco fa niente non trova avversario io non so che cazzo fare non mi farà andare classificate c'è una differenza per ragazzi tra classificate challenge online diciamo challenge online classificate sono uguali più sono uguali sono quasi uguali sono classificati dalla possibilità di non beccare con le tre tacche i lag ma invece l'ottanta per cento trova solo i lag invece nelle challenge trovi lag ma il 20 30 per cento il contrario ricerca avversario dammi chi cazzo vuoi ci facciamo questa qui per l'ennesima volta niente o non so che dirvi c'è non è possibile che c'è un avversario che cazzo li ha presi e già io il tempo limitato per giocarci a registrare co comina 00 metro treppone lui e il cairo prepariamoci ragazzi con il lag nel nome del paio del filtro lo spirito santo ame tenac io trovo tenac o fernando santo sarà mai raga mannaggia da chi testa a post band x davvero fresco no mi puzza ma mi puzza mannaggia dai sappiamo la quinta è sempre disonesta sto siense perché mi sto sto cercando di concentrarmi proviamo così ragazzi andiamo a vedere come va dai qui c'è un trequartista lui van de bruy allora facciamo così ragazzi uno mi ha chiesto come si fanno le marcature allora vedi qui vai qui tattiche predefinitive predefinite non predefinitive vai impostazioni marcature vai su quello che tu vorresti che marchi cioè io vi era chi ac e vai a scelchi marcare cerchiamo vedete de bruy trequartista ok poi ober mai anche veloce quindi poi lasciamo così poi vediamo dai le magliette quella storica blu lì ma che ma a me non trova mai un cesso un cesso alla quinta oppure mi devi dare cinque punti per cinque annaggia kit e biv ma anche se è vero che quando trovi 600 molta difficoltà battere ragazzi è una cosa incredibile ma tutti che portano mezzi vidi del cazzo degli europei paesi 2020 babà trafano minchia dove gioca questo ma che lo stadi al bologna c'è una sola nuova in cielo al fosci fami il lancio non lo fa il lancio io raga con tenazza minchia che palle che ho e noi non vediamo l'ora che i contendenti ci regalino e poi è un'occasione importante che complesso magnifio e' solamente un valore aggiunto allo spettacolo che ci attende sullo tangolo di gioco e'u fu serai due due oh e perchè l'ha? eh vabbè perchè l'ha? che cazzo lo dico a fa? perchè l'ha? lo so che deve laggare questo e che riesce a fare la differenza anche qui minchia raga come lagga ha un incredibile senso tattico come ho visto il Cairo a posto e meno ma che l'ha dovrebbe avere una super connessione la tutti i soldi che hanno quei fili di indrocchio e che va a terra quella? ah beh mannaggia di te biffo tutti i numeri svinchiati come sempre e chi cazzo l'ha doma? ma perchè all'u... questo è il passaggio 2 l'ha assistito questo è il re 2 raga vai toglie toglie madonna si fermano si fermano tutto l'u-do oh 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 madonna mia madonna ma perchè vedete io registro e va di miesocco Sto giocando con la maglietta del Barcellona Iconic Quindi Totolari Vabbè Savi, Bangu, Iniesta e Maradona Che li salvano i VGG Mettiamo l'attacca giù Madonna mia Che cosa è sto casino? Ma dove cazzo l'ha data? Il spezzo alla gamba, la fan google Boh, se me le spelle sono un coglione No raga, non ci credo Faccio io i falli, me le spelle subito raga No vabbè dai No, non ci credo raga, non ci credo No, non ci credo, non ci credo Guardate questo, oddio mio Proviamo a me, che devo fare? Che sta facendo? E chi cazzo tolgo? E togli le mani addosso Mamma mia, quando ti mettono le mani addosso Ma non finisce mai Ti continuo Leggere sarà un po' duro ragazzi Un po' sì E vai che sei più veloce Eh, ma come cazzo è che l'impalla? Madonna mia È giusta l'impalla Toglia Oh, non riesco ad andare in pausa Oh, cambiare modulo Non riesco ad andare in pausa ragazzi Ottima pressione Che coglioni che ho fatto l'ai Per salutare Luca Manigras Dispezca aga E l'aga L'aga A me non fischia i falli Vabbè Eh, vabbè Senza centrale là Ma perché vai indietro? Invece da anticiparlo Che io ho fatto Vabbè Io ho fatto il fallo là Vabbè 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 Vediamo che è la quante Facciamo così Proviamo così Vabbè Giù, giù, qua Tampo, venire Ok Vabbè 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 Sì Ma non ha fatto Un'ultimo bot Fino a mo La va a fare Eh dai Ma io lo sa 46esimo E trenta e slo Secondo Vabbè Pazzesco che cosa potrà accadere no ma che ho fatto la music tirare ma di passare vabbè è giusto così oh maledetta a me e dai bravo così quello volete il capo io ritando una gioia ecco cosa succede a lasciare spazio un giocatore delle sue caratteristiche la difesa poteva marcarlo molto molto meglio eh la che la devo fare mi seguo un dc Oh, e va, e pico, e va, e pico la gamba, mannaggia chi te beve, but, ma è un fallo a me, un fallo a me, me lo fischia ogni tanto, che devo fare, devo cercare di mantenere la mezzo a uno, e farti l'incontro il piede, vai Battista, batti, ti devi fare i fallo, che, 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 come ha tirato questo, oh, ma come, come ha tirato, l'anglais, ma c'è questa mappa, oh, evitare di questo corner, тех, Ultimo, che, chi, che, 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 fa del suo meglio per allontanare il piede balla al centro e il portiere si mette una pazzola il portiere è stato impeccabile è difficile fare meglio di pesire ma come fuori gioco ma se gli era andata a lui addosso ma di che cazzo stai parlando ma che incredibile sei incredibile quanto cazzo dura sta partita un'eternità un'eternità sta durando chi sta avanti a chi cazzo va a finire la palla a lui chiami 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 e buttala e non riesco a buttarlo ma di che incredibile non ci sono alternativa a gallaccio lungo e pedalare fuori giù eh oh ma chiami ma guarda un po' che non riesco a buttarla palla ma vedete che incredibile ma le tagli oh ma l'ado fatti ma ti mau nombra no 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 nuovina no 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 io ti sputo proprio fa i guardi a vicino ma invece via cagare va raga come unito come unito raga mannaggia roba da pazzi raga roba da pomarato come sbaglio un gol del genere dove va qua ma in porta no ma perché ma perché di uno a lui ma io non l'ho capito mande mai a vatti boss è entrato minchia voglio già non ce la fa più non è possibile quanto cazzo duro sta partita che stai a fare la piena no latino la vuoi teni e vabbè classico bobo dal bank lo sapevo io raga ma io lo sapevo prima che tirasse già lo sapevo e vabbè ragazzi a me la quinta è così la mela quinta è così che cazzo vedevo di e andrò pure a ferro già lo so lo sbaglio troppo i goli davanti alla porta fuori giù io sto pensando ancora a baradona ragazzi il gol che ha sbagliato non ho parole veramente non ho parole non ho parole non ho parole non ho parole quello che si scansi non ho parole vabbè questo è il pezzo poi ditemi che io non ho ragione la quinta maradona che mi sbaglia il gol vabbè stato piace ragazze alla prossima io non so più che cazzo di di 8 e 5 a questa non ci arriva vabbè a fare in culo va no 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 86 stessi 93 3 a 1 di maradona l'avevo chiuso vabbè che dirvi che dirvi raga che dirvi nonostante la sconfitta solo pochi secondi ancora di collegamento ringrazio Luca per avermi affiancato nella telegramma niente raga lasciamo perdere da alla prossima non ho parole non ho parole